Applauso di Ceresole e Reale Marianne, Voss, Olanda. Arriva la maglia verde, Alberto. Emanopoli, l'applauso per lei. Emanopoli seconda, Carnis Velo. Attenzione Alberto, arrivano, mi sembra Arte e la Guderzo mi sembra. Esatto, esatto, eccole, Judith Art, terza, Satiana, Guderzo. Quarta. E la vincitrice dello scorso anno, super applauso per Mara Ebot. Eccola, Mara Ebot da sola, quinto posto, quinto posto per lei. Però che l'ha avverto grandi reazioni anche da parte di Mara Ebot, l'azione almeno d'orgoglio. Uno dovrebbe arrivare Claudio Ausler. Arrivano altre trete. No, è Tatiana Antoshin, eccola la russa, la russa della Gauss. Tatiana Antoshin, Ruth Gorset. Applauso per lei, l'Australiana. Arriva ora Claudio Ausler, la tedesca. Di allora passa a zero l'applauso. Arriva anche Claudio Ausler. Mariam Voss, dunque, quinta vittoria in questo giro. Alberto, altro numero di Mariam Voss. A dodici secondi a Mapule e a ventidue a Juditan.